Benvenuti a Fatti e Misfatti, le notizie della montagna. Io sono Luca Serentà e lascio subito la parola al nostro amico giornalista Roberto Serafin che ci ha preparato la sua selezione settimanale di notizie. A te Roberto. Vorrei oggi raccontare caro Luca di due leggende viventi dell'alpinismo. I loro nomi di battaglia Calumer e Gnaro sembrano rubati a una grafica novel ma non mi permetterei mai di definirli eroi da fumetti. Comincerei dalle chiese Calumer al secolo Giuseppe Orlandi. Ha occhi metallici e pur sereni direi trassognati. Deve essere un tipo calmo Calumer da quel poco che lo conosco e possedere nervi d'acciaio ben temprati da quell'impavido fabbro di se stesso che ha l'aria di essere. A Calumer è stato dedicato dalla Vibram un corto della durata di 12 minuti. A presentarlo ai piani resinelli è provveduto Alessandro Gogna, celebrità dell'alpinismo con Massimo Mazzoleni, capostazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e Paolo Schiavo, medico del pronto soccorso di Lecco. Gran folla, clima festoso da quello che si è letto sui social. Considerato un custode della grignetta, Calumer è uno dei tecnici soccorritori specializzati della delegazione lariana. Moschettieri di scorza dura, sempre alle prese con barelle portantine, ganci baricentrici di elicotteri, complicate manovre in parete anche in piena notte sotto l'imperversare di burrasche che non si fanno certo riguardo di complicare situazioni già di per sé delicate, per non dire estreme. Tra il pubblico c'erano ai piani resinelli anche i quattro figli di Calumer, buon padre di famiglia, con compagni e nipoti. Ma lo sappiamo tutti vero Luca, la montagna vive di storie, racconti e persone che nell'ombra giorno dopo giorno compiono geste eroiche per garantire la sicurezza e la salvaguardia di territori a volte ostili. Calumer ha dedicato tutta la sua vita al Soccorso Alpino della Grigna, salvando centinaia di persone e bene ha fatto il filmmaker e fotografo Achille Mauri a raccontarlo. Calumer, e questo anche il titolo del film, ripercorre le esperienze del protagonista che in un mix di autoironia e saggezza mette a fuoco l'importanza di affrontare la montagna e le sue avversità con il giusto rispetto. Per raccontare Dignaro all'anagrafe Silvio Mondinelli occorrerebbe invece spendere qualche parola in più, non me ne voglia Calumer. Le campane suoneranno a stormo, sabato 18 settembre a Pinzolo, nel Trentino, per la cinquantesima edizione della prestigiosa targa d'argento della solidarietà alpina e quest'anno il premiato è proprio lui, Mondinelli. Un uomo vero, sensibile, dotato di grande energia e di straordinarie capacità alpinistiche, lo definisce la giuria guidata dal cavalier Angiolino Binelli che mezzo secolo fa lanciò questo premio unico al mondo. E bisogna andare parecchio indietro nel tempo per recuperare le prime prove del valore di Mondinelli, protagonista di oltre 30 spedizioni, salito su tutti 8.000 senza ossigeno supplementare. E oggi in pensione dopo un onorato servizio nelle fiamme gialle. Sensazionale, viene definito in soccorsi in montagna, che raccoglie la storia del soccorso alpino e speleologico nelle Alpi, l'intervento notturno compiuto il 3 dicembre 1983 con l'elicottero al Monte Rosa. Con un potente faro, un velivolo di Air Zermatt recuperò poco prima dell'alba una giovane gravemente infortunata con il determinante contributo dello stesso Mondinelli. Nel 2000 è ancora Mondinelli, guida alpine e soccorritore della Guardia di Finanza, a mettere in salvo sull'Everest una ragazza bloccata dalla tormenta a quota 8.600 metri. Ma per saperne di più dignaro della sua passione per l'alpinismo, della sua vocazione umanitaria, con gli amici del Monte Rosa si è prodigato per i nepalesi, raccogliendo fondi e mettendo in piedi ospedali ad uso della popolazione, è consigliabile, dicevo, procurarsi il manuale Alpinismo d'alta quota, pubblicato da Eppli nel 2009, 305 pagine 24,90 euro. In queste pagine Mondinelli racconta la sua vita, la passione, la fatica, il desiderio di libertà, i momenti difficili e a volte tragici, la lontananza dalla famiglia, il rischio e i numerosi salvataggi ai compagni in difficoltà, ma anche la gioia al termine delle esperienze più riuscite. Perché, osserva Gnano nel suo sito internet, esistono due tipi di mal di montagna. Uno è quello che viene salendo in alta quota, l'altro è quello che colpisce chi non ci va. Il primo ogni tanto mi viene, ma è raro e di solito molto lieve, l'altro invece fa stare davvero male e non ho alcuna intenzione di beccarmelo. Se mi assegni qualche scampolo di tempo in più, caro Luca, vorrei aggiungere che, insieme con Adolfo Pascariello, Renato Andorno e altri amici, Gnano fondò l'associazione Amici del Monte Rosa Onlus, la cui missione è l'aiuto alle popolazioni nepalesi, come forse ho già accennato. L'associazione ha costruito una scuola elementare a Namche Bazar, a 3.400 metri nella valle del Kumbu, e ne sostiene l'insegnamento con personale docente, strutture e apparecchiature. A carico dell'associazione sono decine di adozioni a distanza di studenti cui vengono garantiti studio, vitto e alloggio. Successivamente l'associazione, con Pascariello, presidente, e Silvio Gnano Mondinelli, testimonial ed esecutore dei lavori, ha costruito l'ospedale di Maleku, nel distretto di Dading, sulla Prithvi Highway, che collega Kathmandu a 60 distretti nepalesi. Ma basta così. Sia Gnano sia Columer sono le dimostrazioni viventi che la montagna non è solo la cima, ed entrambi lo hanno dimostrato con i fatti, sempre rispettando i valori dell'onestà, dell'umiltà e della correttezza. Vanno forse definiti eroi? Gianni Brera non sarebbe d'accordo. Lo fanno, avrebbe detto l'indimenticabile Gioanin, per dovere di casta. Sono veri angeli. Per concludere, consentemi Luca di segnalare ai nostri amici, che come noi sono fatti di montagna, che sono io ahimè quella persona sfigurata dal volto tumefatto apparsa in Mount City. Quel giorno inciampai in un monopattino maldestramente parcheggiato su marciapiede di via Marghera. Fui ricoverato al San Carlo con un trauma cranica, e per fortuna niente di rotto. Un medico del pronto soccorso fece una smorfia, osservando quella mia faccia orrenda. Voglio allora capire perché. Non c'era uno specchio in quel bailamme del pronto soccorso. Allora mi scattai il selfie in questione. E cose che capitano a Milano, dove anche i monopattini contribuiscono talvolta a rendere la vita una roulette russa. Tantissime grazie. Vorrei approfittare per rivolgere tantissimi grazie agli amici che mi hanno fatto avere messaggi di solidarietà. Aldo Odisio, a suo tempo direttore del Museo Nazionale della Montagna, ci tende a comunicarmi, magra consolazione, che lui, abitando a Torino in via Cernaia, uscendo sotto i portici, rischia giornalmente la vita tra monopattini che sfrecciano, facendo lo slalom tra i passanti. Concordo con te, mi ha scritto invece Alberto Paleari, insigne alpinista e scrittore. Milano è il posto più pericoloso del mondo. Io, da Montanaro quale sono, non abituato ai rischi cittadini, cerco di venirci il meno possibile. In tono più pacato, il messaggio del vicentino Tarcisio Bellò, che mi invita a resistere, perché, sono sue parole, con l'indole montanara si superano tutte le avversità. Ma davvero pensi che basti, caro Tarcisio, l'indole montanara a sopravvivere in questa città, che i milanesi definiscono affettuosamente del menga? Bene, avrei finito e approfitto per augurarvi un buon weekend e arrivederci alla prossima. Grazie Roberto e alla prossima. Su fattiglimontagna.it trovate tutti i link per approfondire le notizie. E non dimenticatevi di unirvi al canale Telegram di Fatti di Montagna per rimanere sempre aggiornati. Grazie. 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 Grazie.